Buongiorno e bentrovati con questa edizione di mattino 6 per questo giorno, 3 gennaio 2017, martedì, siamo pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali ma anche le prime pagine delle principali testate nazionali dove in particolare due sono gli argomenti forti, la strage di Istanbul rivendicata dall'ISIS e poi per quanto riguarda la politica interna il codice dettato dal leader dei 5 Stelle Grillo, per quanto riguarda i fatti locali diversi gli spunti che troveremo sulle pagine dei nostri quotidiani e poi rivedremo anche alcuni servizi confezionati dalla redazione del TG6 per le edizioni di ieri. Iniziamo con il vedere le prime pagine delle 4 edizioni del centro e poi le prime pagine del messaggero e della città. Qui siamo sul centro edizione Aquilana, l'apertura è la medesima per tutte le edizioni, commercio, saldi tra le polemiche, giovedì al via in regione la stagione degli sconti, i negozianti si parte troppo presto. E poi questa foto di Will Smith, il famoso attore statunitense, l'Abruzzo inizia bene il 2017, Will Smith veste brioni, l'azienda di penne apre uno store a New York. E poi ancora l'Abruzzo alla cultura contributi per 1,1 milioni, università Chieti-Pescara settima in Italia per attrattività. Turchia, 12 arresti per la strage di Capodanno. E poi ancora altri richiami di spalla, anziano colpito da meningite in fin di vita a Sulmona, secondo l'Asle non c'è alcun allarme per altri soggetti né la necessità di profilassia. Roccaraso profuga, abortisce e abbandona il feto sul terrazzo. A Collepietro fuoristrada con l'auto, muore un 32enne. In basso, Bussi, Toto impugna la gara, finisce al Tari, il bando per la bonifica, Bratti riaprire l'indagine parlamentare. Poi all'Aquila il festival della maldicenza, ecco il programma completo delle manifestazioni. Poi ad Avezzano l'avvocato Franco Colucci dice il 2017, anno decisivo per salvare il Tribunale. Prima edizione di Chieti con i richiami di cronaca, di spalla. A San Salvo in fiamme il negozio degli sportivi. A Ortona grave 47enne travolto sulla strada e a Chieti ecco le 10 opere rimaste incompiute. E poi ancora in basso per lo sport sempre a Chieti. Giacomo e Matteo, fratelli sprint, argento dei teatini ai campionati italiani di ciclismo su pista. Giacomo e Matteo del Rosario. Poi ciò che si gira il primo film di Jezzi dedicato alla sua Chieti. Prima edizione di Terra, ma anche qui andiamo a vedere i richiami di spalla, perché il resto della prima pagina è comunque identico. 15enne perseguitate il branco e la vittima dal giudice. Saranno sentiti tutti in un incidente probatorio che si svolgerà a febbraio al Tribunale per i minorenni. Terremoto con l'atterrato scattano gli sgomberi. Giulianova tentano la truffa nel nome di frate Simone. Poi in basso l'ex attaccante di Teramo e Pescara, la padula a casa di Babbo Natale, visita a sorpresa del bomber a Castel Castagna. Sempre per il calcio di Lega Pro, Ferretti e Romero nel mirino del Teramo. Prima edizione di Pescara, ecco qui subito di spalla, lavori bloccati, la TACPET resta sopra il camion, l'apparecchio antitumori, non si muove dalla strada, fermi i lavori per il nuovo reparto. Pescara, file di studenti per il vaccino, antimeningite. Sempre a Pescara il neo questore Misiti, la città sarà più sicura. Poi ancora in basso con la Befana arriva la neve, è previsto un calo delle temperature di circa 13 gradi. E poi per il calcio mercato il Pescara prende Bovo e pensa a Gilardino. Prima pagina del messaggero Abruzzo, meningite, un caso a Sulmona. Il ricovero di un uomo di 84 anni in rianimazione è confermato ieri sera dalla ASL, esclusi i pericoli di contagio, ma ormai la psicosi dilaga, corsa ai vaccini a Pescara e Teramo. Sotto la testata l'Aquila rinasce un progetto futurista per ricostruire Ponte Belvedere. Poi Chieti la sorpresa suore a Messa, ladri in convento, maxifurto a Capodanno. Poi ancora il Pescara crede nella salvezza, trist di rinforzi e non è finita. Il Teramo ha pronta la rivoluzione e la repurazione di otto giocatori, nel Merino la coppia di attaccanti Ferretti e Romero, dubbio Caidi. E poi di Spalla, Università Vola Chieti, bene l'Aquila, Teramo frena. Didattica, qualità di ricerca e capacità attrattiva, i fattori decisivi. Poi la fotonotizia del messaggero Abruzzo, il boom dei frutti vendoli egiziani, la rivoluzione del commercio. Sempre in taglio medio, l'auto si ribalta, trentenne morto sul colpo, l'incidente a Collepietro, vicino Navelli, ferita una donna, si sospetta un guasto ai freni. E poi boom demografico, Montesilvano a quota 54 mila abitanti. Prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, un'altra stangata per le autostrade, questo è il titolo d'apertura. Le associazioni protestano per l'aumento più che doppio rispetto alla media strada dei parchi, si difende. Poi sotto la testata per la politica a Teramo, giunta a Brucchi pronta a inghiottire il rospo Dodo. Poi ancora, dopo la lite con la Team, rifiuti della montagna, dirottati a Notaresco. La fotonotizia è dedicata a Giulianova, mercato Orsini, banchi senza i furgoni lungo il corso entro l'estate. Poi ancora, polo scolastico, la viabilità c'è già, nello studio di fattibilità ha previsto un nuovo anello, polo scolastico di cui si parla a Teramo. Poi ancora di spalla il cimitero di Cartecchio, riaprono i padiglioni terremotati. Poi sempre a Teramo lascia la casa popolare e viene sfrattata. A Silvi, centro di Sabili, presto il bando per l'apertura. Poi in basso, per lo sport, Zauli confermato, Teramo idee diverse anche sul mercato, ultima spiaggia per salvare la stagione. Poi Martinsicuro, Camaioni, pesa la sua ricandidatura. Possiamo per il momento lasciare le pagine dei quotidiani locali. Ora ci concentriamo sulla rassegna stampa delle prime pagine delle testate nazionali, dove vi abbiamo già detto quali sono i due temi principali che trovano spazio maggiore nelle prime pagine. Possiamo partire proprio dal Corriere della Sera. Il codice Grillo sugli indagati, svolta garantista dei 5 Stelle. Chi è sotto inchiesta non deve dimettersi. Varato il documento etico, oggi si vota la rete scatenata. Si pensa a raggi. Poi sotto la testata l'Isis rivendica punita la Turchia infedele, un killer cinese, 180 colpi a segno 1 su 2. Poi ancora l'editoriale di Angelo Panebianco, il terrore e il ruolo dell'Islam, religione e interessi. Poi in basso la fotonotizia dedicata all'ex calciatore Paolo Di Cagno. Di Cagno i tatuaggi, Dux pentito di tanti errori, i simboli di un passato della carriera in TV. E poi in basso migranti in rivolta, bloccati 25 operatori. Veneto protesta in un centro per la morte di una giovane ivoriana. Si tratta nella notte. Prima pagina di Repubblica. Il dietrofront di Grillo. Chi è indagato non deve dimettersi. Codice etico in sei punti. Uno scudo per il rischio raggi. Sanzioni non automatiche valuteremo caso per caso. Il PD, ipocrisia. Il Movimento 5 Stelle si divide. Pizzarotti. Avevo ragione io. E poi la fotonotizia. L'Isis rivendica l'attacco alla discoteca di Istanbul. Il terrorista venuto dalla Cina. Un massacro in 20 minuti. E poi il ministro Martina. Pronti a fare un decreto. Via subito al reddito per aiutare i poveri. La prima pagina del messaggero. Grillo garantista. Aiuto a raggi. Il leader 5 Stelle. Chi è indagato non deve dimettersi ma soltanto informare il blog. Il PD svolta salva Virginia. Contratto dei grillini. I legali del sindaco potrebbe essere nullo. E poi l'editoriale di Carlo Nordio. Il codice etico del Movimento 5 Stelle. La conferma che la politica è subalterna alla giustizia. Poi in taglio medio. Migranti più difficile richiedere l'asilo. Via dopo il primo no. Verso nuove regole. Unico grado di giudizio. Niente appello. Obiettivo. Espulsioni più rapide. Poi c'è la fotonotizia. Istanbul. L'Isis rivendica la strage. Il killer è un cinese musulmano. I jihadisti. Abbiamo colpito la Turchia. Serva della croce. Poi ancora in basso. Le regole per chi deve comprare e ristrutturare. Ecco tutti gli sgravi del 2017 sull'argomento casa. E poi meningite. Corsa la vaccinazione. Morto a Roma il cinquantenne di Alatri. La prima pagina del giornale. Affari a 5 stelle. Grillo vuole una banca. Punta agli sportelli online del Monte dei Paschi. Intanto si scopre garantista. Il governo cerca Berlusconi per salvare Monte Paschi. E poi ancora la fotonotizia. I dilemmi del califato. Ecco l'arma dell'Isis per gli attacchi chimici. Prima pagina del fatto quotidiano. Banche. Commissione. Subito. Un anno dopo. Rapina impunita. Dicembre 2015. Renzi annuncia l'inchiesta parlamentare. E poi ancora sotto la testata. 5 stelle. Via. I condannati. Gli indagati caso per caso. Oggi voto sul blog. Le nuove norme per gli eletti. E poi il caso Marra Junior. denunciata da tutti. La Raggi. Prima. Cavia. Poi ancora. Centropagina. Censura. Da Pitruzzella Mattarella. Mentana. Bavaglio al web. Idea assurda. Impossibile. La prima pagina di Libero. Agonia dell'euro. Il killer della nostra economia. La Germania annuncia. Avanti così l'Italia uscirà per disperazione dalla moneta unica. Berlusconi suggerisce una seconda valuta nazionale da affiancare a quella comunitaria. La carica dei 101 pentiti. Oggi la seconda puntata dei mea culpa dei fondatori. E poi la soluzione adottata dal premier Rajoy in Spagna. La Spagna spara per fermare i clandestini. E poi ancora la stampa. La svolta dei grillini. Chi sarà indagato non dovrà dimettersi. E poi la fotonotizia non difende più i diritti. Tramonta lei di Birmania. Nobel contro San Susi. Tace sulle violenze. avanti ancora con il tempo. Virginia avvisata e mezza salvata. Il salvaraggi Grillo teme l'inchiesta romana sulla sindaca e si scopre garantista. L'indagato non deve più dimettersi. E poi ancora di spalla. Sì. A treni e ponti. Meno cemento. Ecco lo stadio. Ok. Dal comune. Torri più basse. E poi sempre a Roma. Un altro morto di meningite nella capitale. Allarme contagio e psicosi. L'avvenire. Difendere i bimbi dei nuovi erode. Il Papa. No a guerra. Sfruttamento e pedofilia. Francesco scrive ai vescovi e raccomanda attenzione ai drammi dei più piccoli. E tolleranza zero sugli abusi del clero. avanti ancora con il gazzettino. Politici indagati. Grillo cambia idea. E poi il manifesto. Lo scudo romano. Chi riceve un avviso di garanzia non deve dimettersi. Beppe Grillo modifica le regole. Poi l'Isis rivendica l'attacco di Istanbul. Il mattino clandestini. Il flop. Espulsioni. Pochi controlli e processi. L'umaca su 30 mila decreti. Eseguiti solo 5 mila. La Gazzetta del Mezzogiorno. Indagati. La svolta di Grillo. Poi leggiamo. Bollo auto. In Puglia. Raddoppiato. Il numero di evasori. Il secolo XIX. Istanbul. La firma dell'Isis. L'unità. Terrore senza confini. L'Isis rivendica la strage di Istanbul. L'assassino di Capodanno. L'abbiamo preparato noi. Mentre in Turchia caccia al killer. A Baghdad. 3 autobombe uccidono 40 persone. Poi un'altra medaglia per Bebe. Ovviamente parliamo di Bebevio. Io mi vaccino. Prende parte dunque alla campagna per dire sì al vaccino. La campionessa paralimpica italiana. La verità. Il gatto e la volpe della vecchia DC hanno sotterrato Pinocchio Renzi. E poi salvi finora dalla Gihad. Perché il covo è qui. La verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Possiamo lasciare dunque la segna stampa dei principali titoli delle testate nazionali. le prime pagine nazionali. Possiamo tornare dunque al centro. Andiamo a sfogliare le pagine interne del quotidiano Il Centro. Prima di andare poi in pubblicità. Passando anche per il meteo. Ecco qui pagina 2 e 3. Saldi in Abruzzo. Giovedì. Via agli sconti e polemica sulla data. I commercianti. Un danno. Partire con troppo anticipo. E poi qui ce lo leggiamo. Un decalogo per gli acquisti. E poi ancora. Spesa media tra 175 e 340 euro. Per il Codacons farà compere una famiglia su due. E solo su prodotti mirati. Ma le vendite ribassate sono iniziate da tempo. Dice Roberto Donatelli di ConfCommerce. Comunque sull'argomento saldi in Abruzzo. Anche il Tg6 ieri ha effettuato un servizio al centro di questa situazione legata ai saldi. È proprio il discorso della data. di un eccessivo anticipo nell'apertura di questi saldi. Allora vediamo il servizio della nostra redazione. Quasi una famiglia su due. Il 45% approfitterà dei saldi. Ma con acquisti mirati e un budget che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno. Senza superare in media i 175 euro a famiglia. Sono queste le stime del Codacons secondo le quali i saldi sono di fatto già partiti in un negozio su tre in tutta Italia. E nonostante l'inizio sia previsto nella maggior parte delle regioni per il prossimo 5 gennaio. Gli esercenti applicano già sconti medi dal 20 al 40%. L'anticipo dei saldi purtroppo avviene tutti gli anni. Si nascondono in attività, promozioni, qualcosa di diverso ogni volta. E vengono sempre più anticipati. Il lavoro si ferma molto prima del dovuto. La problematica è quella delle date e dei saldi che sono troppo anticipate, bloccano il lavoro, soprattutto per chi come noi è legato a fattori meteorologici tipo la neve che ancora arriva per esempio quest'anno e ci troviamo fra pochi giorni ad affrontare già la problematica di fine stagione quando la stagione ancora non comincia. Quindi a mio modo di vedere le date sono da posticipare sicuramente almeno a fine gennaio. Per il Codacon sa la base della mancata ripresa delle vendite l'eccessiva avvicinanza tra le festività natalizie e anche l'influenza del commercio online. Proprio sull'anticipo della data di avvio e sulle difficoltà del commercio in tempo di crisi si snoda l'insoddisfazione dei commercianti di Pescara che se da un lato patiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali dall'altra provano a mettere in campo nuove strategie. Devo dire che fortunatamente anche avendo aperto da poco quindi l'8 di dicembre c'è stato un bel flusso di gente anche sotto le festività anche dovuto al tipo di attività che abbiamo e abbiamo riscontrato un grosso successo soprattutto nel periodo dei festivi e nei giorni successivi ai festivi dove le persone si sono sedute molto volentieri. Noi abbiamo aperto questa Enoteca Wainbar proprio per abbracciare la più alta percentuale di persone quindi da una bottiglia in vendita, un pacco natalizio, i famosi cesti di Natale fino alla somministrazione di bicchieri e quindi fare anche da Wainbar uno stuzzichino e ampliando questa offerta naturalmente abbiamo lavorato, lavoriamo bene. Noi cerchiamo sempre di trasmettere questo affetto nei loro confronti sempre con la nostra passione e nella ricerca del nostro cibo, è un nostro cibo che si basa esclusivamente sulla tradizione, che soltanto con la conoscenza delle nostre tradizioni possiamo dar valore ai prodotti della nostra terra. Pagina 4 e 5 sempre sul centro, bussi, veleni e ricorsi, bando per la bonifica da verificare. Riapriamo l'inchiesta parlamentare, il presidente della commissione bicamerale Bratti serve un supplemento d'indagine sull'appalto in ballo i lavori mai partiti per quasi 40 milioni di euro e il recupero del polo chimico contaminato. Il deputato del PD sarà presto in Abruzzo, ci sono tutti gli elementi per continuare l'accertamento sui fatti nuovi degli ultimi mesi. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 marzo 2016, in rapida sequenza sarebbe dovuta seguire l'apertura delle buste che dopo l'invio sono ancora chiuse. L'intervento ha l'obiettivo di rimuovere i materiali interrati in due zone specifiche fino al raggiungimento di valori ammissibili a norma di legge. E poi in basso un investimento da 300 milioni di euro, la proposta dell'imprenditore abruzzese per la reindustrializzazione dell'area, obiettivo 350 posti di lavoro. La proposta dell'imprenditore Carlo Toto che vediamo nel progetto, anche un piano per la rinaturalizzazione in collaborazione con forestale e associazioni. E la Toto Holding chiede l'annulamento della gara impugnata al TAR per bloccare la procedura milionaria ritenuta viziata e illegittima perché avviata dalla gestione commissariare che dal 2012 sarebbe dovuta cessare. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara, o meglio passiamo prima per pagina 17, pagina della regione Abruzzo, il piano di riparto della giunta regionale. Associazioni culturali fondi per oltre un milione, inseriti anche contributi per il teatro marrucino e all'estate musicale frentana. D'Alessandro daremo risposta all'appello per la riapertura di casa spoltore. Poi Chieti-Pescara bene in attrattività, la classifica del sole 24 ore circa le università, la d'annunzio settima in Italia per quota di studenti fuori sede. E ora effettivamente la cronaca di Pescara, gli sprechi della sanità, TACPET in affitto da 10 anni, i lavori attesi non partono, bloccato l'appalto per medicina nucleare, le cure nel camion costano 1,4 milioni di euro. Il primario lancia l'allarme in una lettera all'Astri, il cantiere slitta nonostante i ricorsi vinti e le aggiudicazioni. E poi ancora meningite, studenti in fila, nessun allarme in città, ma ragazzi e genitori prendono d'assalto l'ospedale. Ci sono le parole anche del consigliere comunale di Pescara, Pignoli, che scrive a sindaco e manager a Asla a flusso super servizio da potenziare. Il nuovo questore guerra ai ladri, ma i cittadini ci aiutino. Si è insediato Francesco Guglielmo Misiti, che lancia subito un appello ai pescaresi, segnalate qualsiasi fatto particolare. E poi in basso allarme bomba in via Spaventa, paura per una valigia, ma conteneva solo un pannello di tecnologia solare. E poi la cronaca, paura in viale d'annunzio investita, mentre attraversa 26enne ferita, travolta da una panda guidata da una pensionata e sull'asse posizionati i nuovi segnali per evitare i contromano. E poi ancora in basso, salita Zanni, scoppia la polemica. Dossi di fronte casa D'Alfonso, interrogazione di Forza Italia. Avanti ancora, mercato etnico, i lavori ancora fermi dopo otto mesi. Il sottopasso di via Ferrari allestito solo a metà resta un'opera incompiuta e il progetto si è arenato. Mancano gli stili del Consiglio e la scelta di un gestore. E poi emergenza maltempo, arriva il gelo, la Befana sarà imbiancata. Il meteorologo da giovedì sera, temperature giù di 13 gradi. Il comune ditte e mezzi in allerta, pronte 30 tonnellate di sale. La parola al meteorologo Giovanni De Palma. Il clou è previsto per venerdì e da domenica si va verso il miglioramento. Ma ci sarà il problema degli accumuli di ghiaccio. Avanti ancora, siamo a Francavilla, rete del gas all'asta per 11 milioni. Il comune è pronto a cedere le tubature cittadine a una società privata. Luciani, se la vendita andrà in porto ci saranno i fondi per nuove opere. Sempre a Francavilla torna il presepe vivente. Luciani annuncia l'evento in programma per giovedì. Un successo la manifestazione di Cavaticchi a Montesilvano. Ecco qui, la collina frana ancora il comune. Ferma le auto a distanza di due anni. Non si arrestano gli smottamenti in via Aspromonte. Il sindaco vieta il transito delle macchine residenti a casa, soltanto a piedi. E poi, nuovi cittadini, Montesilvano cresce superata, quota 54 mila abitanti. E poi, in basso, feste noi trascurati dalla regione. Attacco del vice sindaco di Montesilvano, De Martini, in Stappescara, 35 mila euro per il capodanno. Qui, invece, niente. Poi ancora, Brioni veste Will Smith e apre a New York. Ecco, l'abbiamo visto nella prima pagina. Sbarca Manhattan, la casa di moda pennese, scelta anche dalla star americana per la prima del suo ultimo film. Siamo nella cronaca di Chieti. Di primio, grazie al mattatoio. Il sindaco ordina di sospendere la chiusura dell'impianto che serve Chieti e il pescarese. I reflui finivano nelle case e il nuovo provvedimento non cancella i sospetti di un grave inquinamento. E poi, in alto, travolto da un'auto grave 47enne a Ortona, incidente in via Montemayella, l'uomo ricoverato all'ospedale di Pescara. In basso, Duccio, attore drammatico nel film del teatino Jezzi. Oggi la selezione delle comparse a Pescara. Vediamo ora le pagine di L'Aquila e Teramo. Prima di fermarci, Sulmona, allarme scongiurato, colpito da meningite, anziano in coma. L'uomo di 84 anni è ricoverato in rianimazione. L'ASL non si tratta di una forma contagiosa e non serve la profilassi. E poi si ribalta con l'auto e muore a 32 anni. L'incidente è avvenuto a Collepietro. In gravi condizioni, la donna che era in macchina con il giovane. E poi a Canistro, Santa Croce, al Baglio, le offerte. Inizia oggi l'esame delle quattro proposte per avere la concessione. E siamo nella pagina di Teramo. Bullismo a scuola, perseguitata a 15 anni, il branco dal giudice. Gli otto accusati saranno sentiti in un incidente probatorio insieme alla ragazzina, vittima delle violenze. Le accuse agli studenti, i ragazzi devono rispondere di reati gravi, che vanno dalla rapina alla tentata violenza sessuale. Un incubo durato mesi. La quindicenne ha riferito agli inquirenti che i maltrattamenti sono andati avanti per un lungo periodo. E poi, questa notizia di colore, la padula, un bomber a casa di Babbo Natale. L'attaccante del Milan, ex di Teramo e Pescara, fa una visita a sorpresa a Castel Castagna. Noi ci fermiamo per il momento, andiamo ad ascoltare le previsioni del tempo, dopodiché la pubblicità e poi ci ritroveremo con la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con le pagine del messaggero Abruzzo. Fondi per la cultura, un milione di euro, ecco tutti i beneficiari alla Sinfonica, 30 mila euro in meno, il Florian quasi raddoppia. Febbo, non è possibile arrivare a fine anno ad attività completata. Poi Fiorenza della CS, ancora una volta l'unico circuito veramente multiculturale, è stato penalizzato. Poi la forestale assorbita dai carabinieri, come cambiano attività e competenze ai militari di Pescara, la gestione degli aerei, all'Aquila la sede del comando per la tutela dell'ambiente. E poi ancora passando a Pescara, e ora il fruttivendolo parla egiziano. Prezzi bassi, orario continuato e aperture festive. Così i faraoni dell'ortofrutta stanno sbaragliando la concorrenza. Articoli civetta 99 centesimi e merce di qualità migliore all'interno. Il segreto, dicono, sono i maxi acquisti all'ingrosso. I maxi store gestiti dai migrati della terra del Nilo spuntano da nord a sud in ogni angolo della città. Sfida aperta ai negozi tradizionali, siamo competenti e non vogliamo ghettizzarci. E poi ancora in basso, immigrati, rome furti, le priorità del questore Misiti. Una grande esperienza in tema di mafia e stranieri. A Pescara ritrovo Muriana, che era con me a Palermo. Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri sull'insediamento del nuovo questore a Pescara. E' Francesco Guglielmo Misiti, il nuovo questore di Pescara. Da oggi prende il posto di Paolo Passamonti, andato in pensione il 31 dicembre scorso. Agrigentino di nascita, 60 anni. Il neo questore del capoluogo adriatico arriva da Massa Carrara. Nel corso della sua carriera Misiti ha diretto importanti uffici investigativi delle questure di Trapani e di Palermo. Tra i quali la sezione antimafia della questura palermitana. Dove ha contribuito in maniera determinante alla cattura di numerosi boss mafiosi. Innanzitutto il sistema sicurezza. Il sistema sicurezza, come avete visto negli ultimi tempi, è stato rafforzato moltissimo. Vuoi per i profili antiterrorismo, vuoi per i profili anche di tranquillizzare il cittadino quotidianamente. E' chiaro che Pescara è una grossa realtà, risente della vicina Albania, quindi anche da lì dobbiamo verificare un attimino l'andamento del fenomeno di ingresso dei cittadini. Dobbiamo anche verificare eventuali aspetti criminogeni che riguardano sia i nomadi, perché la maggior parte dei reati predatori un attimino risente di questi insediamenti di Rom, sia i profili che di più ambia portata, che su quello chiaramente avrò modo di confondarmi col capo della mobile, profili criminali di più ambia portata che non siano i semplici reati predatori. Per quanto riguarda i profili dell'immigrazione, è sotto gli occhi di tutti il sistema di sicurezza messo in campo a capodanno ultimo che ha impegnato molta della polizia, sia come forze di polizia che calabinieri e guardie di finanza. Va da sé che il fenomeno dell'immigrazione va tensionato a tutti i livelli, il fenomeno dell'immigrazione clandestina va visto anche sotto il profilo antiterrorismo. E' chiaro che è una sfida grossa a livello nazionale, che chiaramente poi si riflette a livello provinciale. Sempre sul messaggero meningite, psicosi, assalto alla ASL per le vaccinazioni. Dopo i due casi di ottobre, le notizie in arrivo dal resto d'Italia, c'è la corsa per proteggere soprattutto i più piccoli. Per il primario infettivologo Giustino Parruti, la prevenzione è l'unica scelta per stare sicuri. Per la cronaca, ragazza falciata mentre attraversa, è stata ricoverata per un grave trauma cranico. Non l'avevo vista, dice la donna alla guida dell'auto. Monte Silvano Teramo, sorpasso vicino. Crescita demografica nel 2016 per il quarto comune d'Abruzzo. Consolidato il vantaggio su Chieti, ha un passo l'ennesimo record. Sfuma definitivamente l'ipotesi di fusione con Pescara e Spoltore. Gli stranieri si fiorano quota 5.000. Ecco tutti i numeri, soprattutto donne tra i centenari in lieve calo. I nuovi nati, il ricordo dei più anziani. E poi un taglio medio, contest di videomapping. Ecco le migliori proiezioni. Domenica sera la consegna dei premi da 5.000 a 1.000 euro. Gli assegni intascati dagli artisti. Il leccese Hermes ha scelto di raccontare la storia di Pescara pur non conoscendo bene la città. E poi problemi per la giunta a Monte Silvano. Documento firmato da dieci consiglieri. Il sindaco Maragno messo alle corde. Avanti con la cronaca dell'Aquila. Si è ribalta all'Utilitalia. Muore un 32enne. Trangeglia sconvolge Collepietro. Ferita gravemente la ragazza che era con lui. Il giovane era appena uscito di casa. Il corpo trovato lontano dal mezzo. Si ipotizza un guasto del sistema frenante della vettura. Come causa principale dell'uscita di strada. Poi innevamento artificiale e scontro con il sindaco. faccia replica al primo cittadino. Si mistifica la realtà. Cannoni puliti e utili alla causa. Il primo cittadino chiaramente è quello dell'Aquila Massimo Cialente. E poi ancora precari del sisma. Sfuma la proroga fino al 2018. Avanti ancora Ponte Belvedere. Ecco il progetto per la rinascita. È un project financing che non prevede la sola ristrutturazione ma una riqualificazione che potrebbe diventare attrazione turistica. Una proposta dell'Unirest che in città ha realizzato tra le altre cose il Borgo degli Elfi. E poi Fiera dell'Epifania, piano antiterrorismo, ostacoli fissi ai varchi ritenuti strategici, stazioni mobili in centro e agenti in Borghese. In basso Pianeta Maldicenza, due weekend di eventi per rinnovare la tradizione di Sant'Agnese. Nella giuria del concorso alcuni cittadini di Amatrice. E poi in Marsica, da quest'anno, treni efficienti. Il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio lo ha promesso in un incontro a un gruppo di pendolari. L'area interna della provincia dell'Aquila ha bisogno di una linea in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Va migliorato e velocizzato il collegamento di Sulmona e Avezzano con Roma. A Castel di Sangro, feto trovato morto, serrate indagini dei carabinieri. Siamo nelle pagine di Chieti e provincia. Ladri in convento a Capodanno quando le suore sono ammessa. Raida al Sacro Cuore, ripulita la dispensa dell'Istituto Religioso di Via Berardi. I malimenti rubano pasta, riso, vino, olio e pacchi natalizi. Forzate le porte, portatevi anche computer, amplificatori e materiale informatico degli scout. I balordi conoscevano tutte le abitudini delle consorelle. Hanno avuto quasi un'ora di tempo. A Lanciano, centrale a biogas, vogliamo la verità. Villa Pasquini, gli ambientalisti insorgono dopo gli sversamenti di liquami. Un video a corredo della richiesta in difesa della salute. Nuovo senso civico. Il filmato dimostra come le sostanze siano compatibili con la fuoriuscita dagli impianti. E allarme la preoccupazione dei residenti. Non è da escludere l'inquinamento dell'acqua e del terreno. E poi ancora Ortona, piano regolatore del porto, è arrivata la bocciatura. Abbasto, spazzatura davanti alla stele di Cieri. E polemica per i bidoni collocati in piazza Rossetti. Il comune si difende. Le pagine di Teramo e della provincia. Scoppia la psicosi meningite. Ufficio vaccinazioni nel caos. Code interminabili e scorte esaurite. Quesito a Regione e Istituto Superiore. A mezzogiorno tutte le 150 persone rimaste rispedite a casa. Locali chiusi. Il manager Fagnano. Se arrivano 500 persone in un solo giorno, siamo costretti ad alzare le mani. E poi Capodanno e polemiche. Brucchi svela i costi. Canzio si arrabbia sui social per le critiche a Briga. I cinquantenni non capiscono. E poi ancora sulla costa. Crolla un tetto. Paura e impiegati in fuga a Giulianova. Brutta avventura ieri mattina per i dipendenti della Fineco. che hanno avvertito uno scricchiolio e poi il sordo tonfo di una trave. L'intervento dei vigili è servito a tamponare una situazione grave. E si scopre che da due anni una famiglia Rom occupa lì un alloggio. Riesplode il problema delle case occupate. Il comune ne ha quattro libere. E poi ad Alba Adriatica sgomberata abitazione nella zona Ferro di Cavallo. Linea dura del sindaco Tonia Piccioni era in uso a cittadini del Bangladesh. A Roseto invece via libera a Mare Blu rispettando i limiti. Lasciamo per il momento il messaggero Abruzzo e andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Prima di tornare anche sul centro del messaggero per le pagine dello sport. Ecco qui, siamo all'interno della città. Aumenti contenuti su strada dei parchi. La società autostradale difende il rialzo dell'1,62%, più del doppio della media nazionale, ovvero 0,77%. Le associazioni di categoria chiedono al governatore di prendere posizione, di abbassare i costi del bollo a auto e di intervenire per un blocco degli aumenti autostradali pluriennale dopo sei anni di rincari. Anche su questa vicenda vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. Continua la polemica sugli aumenti tariffari nelle autostrade della nostra regione, in particolare sulla A24 e sulla A25 gestite da autostrada dei parchi. La posizione delle associazioni di categoria resta fortemente critica con la Confartigianato Abruzzo che definisce inaccettabile l'aumento tariffario. I pedaggi di A24 e A25, sottolineano il direttore dell'associazione Daniele Giangiulli e il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo, Gabriele Sillari. Negli ultimi 13 anni sono aumentati del 187%, tariffe spropositate, soprattutto se si considera, scrive l'associazione, che si tratta di autostrade vecchie ed insicure. La cosa ancora più assurda, conclude la nota, è che tutto ciò accade nel silenzio assordante della giunta regionale del presidente Luciano D'Alfonso. Non si è fatta attendere la replica di autostrada dei parchi, che sottolinea come l'aumento maggiore sia di 30 centesimi e riguardi le tratte più lunghe, in particolare la Roma-Chieti-Pescara, che passa da 19,10 euro a 19,40 euro. Nell'ario intorno all'Aquila continua la nota del gestore autostradare il massimo dell'incremento pari a 10 centesimi e per il tratto l'Aquila-Est-Avezzano, mentre non ci sarà nessun aumento nella tratta l'Aquila-Ovest-Avezzano. Grazie ad un meccanismo di norme che prevede una soglia minima sotto la quale si fa un arrotondamento per difetto dell'aliquota. Anche i pendolari che da Pescara devono raggiungere l'Aquila uscendo a bus, si scrive ancora Autostrada dei Parchi, troveranno invariata la tariffa della tratta. Il gestore parla di polemiche strumentali e abitudinarie davanti a incrementi molto contenuti, ricordando ai pendolari che esiste sempre la possibilità di abbattere fino al 20% il costo dell'autostrada per chi possiede un telepass. Proseguiamo con la città e siamo a Teramo. Lo studio della viabilità è già nel progetto. Il progetto è quello del polo scolastico. Accessi e parcheggi hanno fatto discutere in commissione, ma nel preliminare è previsto un anello di strade. Come al Gran Sasso Shopping, il piano terra del polo scolastico sarebbe occupato da un parcheggio coperto per auto e scuolabus. Accesso verde, parco del Vezola e polo scolastico sono alla stessa quota. Lo si potrebbe raggiungere a piedi. Avanti ancora, siamo alla politica in seno al comune di Teramo. Giunta pronta a inghiottire il rospo Dodo. La Pax Brucchiana passa dal rientro in grande stile dell'ex assessore che per anni ha criticato colleghi in maggioranza, dalla critica pungente al nuovo gruppo consigliare, al gran rifiuto della poltrona, agli ammiccamenti al centro-sinistra. Ecco i passaggi di Dodo prima della richiesta post-referendaria di un assessorato. Le sfumature in giunta c'è chi minimizza, chi non commenta, chi accoglie a braccia aperte, chi è allineato e coperto sulle scelte del sindaco. Avanti ancora Teramo Archivia, un capodanno normale, né top né flop per gli eventi in piazza. Rimasti comunque confinati ad una dimensione stracittadina. Perde la casa popolare che non abitava più. Il comune le revoca l'assegnazione. L'inquilina di Putignano fa causa al sindaco, ma perde il ricorso al tar. La polizia municipale ha controllato le presenze in casa, incrociandole con i consumi delle utenze. Poi il diritto alla casa, la mancata occupazione della casa comunale, l'Ede, diritto di altre persone che attendono in graduatoria. Il cimitero riaprono i padiglioni terremotati. Domani il primo blocco, a fine mese un secondo, per l'ingresso frenata sulla demolizione. Poi ancora, per le notizie dalla provincia, i rifiuti del mote dirottati a Grasciano. Il blocco di Carapollo, deciso da parte della Team, non coglie impreparato il presidente Ruscitti. La diatriba, prima di Natale, la Team ha diffidato il mote affinché saldasse un debito da 553 mila euro accumulato per l'utilizzo della stazione di trasferenza. Appena la chiusura delle porte dell'impianto di Carapollo per la spazzatura dei 21 comuni del consorzio dell'entroterra. Avanti ancora, ultimo bilancio prima delle urne. Martinsicuro, tanto pragmatismo per il sindaco Camaioni, pronto a ricandidarsi. Siamo a Giulianova, mercato del giovedì. Lungo via Orsini, la soluzione centrale sembra la migliore rispetto alle altre opzioni. L'assessore Grimi a decidere dove sistemare i banchi del lungomare. sarà la maggioranza. Poi in basso, PD zitto e muto sulle sberle alla giunta Mastromauro. Linea retta, stuzzica maggioranza è partito sulla questione ospedale. È bilancio. Poi ancora Silvi, centro disabili verso l'apertura. Per la struttura costruita è mai utilizzata. Pronto il bando per la gestione. E andiamo nelle pagine dello sport. Ovviamente si parla di Teramo. Confermato Zauli, ma ora c'è il mercato. Parte oggi il calciomercato. Via Caidi per l'allenatore sì, per la società no. Piacciono Ferretti e Romero. Dovrebbero fare le valigie. Peterman è forte. E poi ancora Teramo-Sannicolò. E se l'accordo saltasse, se i biancazzurri fossero promossi in Lega Pro, non ci sarebbe più la possibilità di farne una base per i biancorossi. E poi ecco, c'è una condizione. Due squadre nello stesso campionato non faciliterebbero di certo la conclusione della trattativa di fusione. Poi asse dal 2017-2018. Non è un mistero che i biancorossi abbiano già messo gli occhi su alcuni giocatori del San Nicolò. In particolare leggiamo qui De Santis, Mozzoni, c'è anche Di Stefano e anche l'allenatore Massimo Epifani. Lasciamo la città. Prima di andare su centro del messaggero vediamo le prime pagine dello sport di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Diamo uno sguardo prima di procedere oltre. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura è Internazionale. È fatta per Gagliardini a giugno caccia a Verratti e Berardi o Bernardeschi. E poi sotto la testata, Mercato Alvia cambia la A. Juve su Luis Gustavo, Toro, Sbarca e Turbe, il rinnovo di Donna Rumma, Spina del Milan. Di Spallado, Sia e Schwarzer, un giallo doping lungo un anno dal passaporto al primo controllo. Poi ancora Napoli, febbre reale, 42 mila biglietti venduti in un giorno. Vediamo ora la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco qui, clamoroso Morata, rivuole la Juve. L'attaccante ha manifestato l'idea di lasciare Madrid per ritornare a Torino. Di Bala, la società bianconera pronta a blindarlo. E poi ancora, biglietti reale, delirio a Napoli. City, Guardiola, shock, non alleno a lungo. E poi ancora, festa a Firenze per il ritorno di Antonioni, che entra nei quadri dirigenziali della Fiorentina. Sorpasso Inter per Bebi Gagliardini, accordo raggiunto. E poi ancora, di Spalla, uva al calcio, coniugare investimenti e risorse. Queste le parole del direttore generale della Federcalcio. Poi sotto la testata, colpi e sorprese, ecco tutti i nomi. Ovviamente sono quelli del calcio mercato che prende il via quest'oggi. Lucas Leiva e Hesse, che affari, il sogno e Hossil. Possiamo ora andare su centro e messaggero a Abruzzo. Chiaramente le notizie principali arrivano sul fronte della Serie A e del Pescara. Riguardo in particolare l'arrivo del difensore Cesare Bovo, dopo che ieri ha sostenuto la prima seduta di allenamento in bianca-azzurro, il neoattaccante Alberto Cerri. Ecco qui il calcio mercato, Pescara è fatta per Bovo, il difensore atteso oggi in città. Budimir Tentenna torna di moda, Girardino Cerri si allena con il Delfino. Ghiomber potrebbe salutare dall'Argentina nel mirino Cubas del Boca Juniors. Sondaggio per Farago del Novala. Eccolo qui Alberto Cerri nella sua prima giornata di lavoro con la nuova maglia del Pescara. Da oggi saranno ufficializzati sia Cerri sia lo stesso Stendardo. Entrambi già al lavoro con Massimo Oddo. Del grosso ci crede, salvezza possibile. Cerri garantisco io. Il terzino Giuliese della Spal, la rimonta alla portata. Stendardo è mio amico, gli sto facendo conoscere la città. Il Pescara può rimanere in Serie A. A Cagliari mi è capitata una situazione simile. Sono riuscito a salvarmi un giorno. Vorrei vestire la maglia bianca-azzurra. Poi ancora per la Lega Pro. Teramo nel mirino, gli attaccanti Ferretti e Romero. Entrambe le piste sono complicate ma il diavolo ci spera. Circola anche il nome di Benzaia. Bolla lavora per le cessioni. Poi per il basket. Chieti a Bologna sfida Mancinelli. Il terzino per la prima volta contro la squadra della sua città. Stasera al Paradozza ore 20.30. A Cogcigalli affrontiamo la fortitudo senza paura. Dobbiamo approfittare del loro momento. E poi in basso Roseto, Fulza, Piacenza abbiamo toccato il fondo. Ora risaliamo. Il capitano carica gli Sharks in vista del match con la Tezenis Verona. Andiamo ora a vedere il messaggero Abruzzo. Prima di congedarci, anche in questo caso troviamo tante notizie relative al calcio mercato. Soprattutto per le due squadre professionistiche abruzzesi. Il Pescara e il Teramo. Visto che questa parentesi di mercato riguarda soprattutto loro. Allora andiamo a trovare le pagine dello sport del messaggero Abruzzo. Il Pescara ci crede. Tris di rinforzi. Dopo Sendardo ecco Cerri e poi Bovo per la difesa. Convaiuve per Mandragora ma per Tiam si complica. Attacco. Girardino potrebbe non lasciare l'Empoli. Sebastiani insiste con il chivo per Paloschi. Vietato fallire. È in estembaio la trattativa per Ledesma perché un regista potrebbe non servire più. Zampano in uscita. Malasamp è su Verre. E poi in basso l'intervista all'ex Carmine Gautieri. Il Defino può centrare la salvezza. Alberto Cerri è il fidanzato della figlia Marianna. Questo non c'entra. Conta la fiducia. Poi ecco qui. Il Teramo ci prova con Ferretti e Romero. Il DS Bolla. Spero di rimettere a disposizione di Zauli. Un gruppo competitivo nel Mirino Le Punte. Ancora da capire il destino di Caidi. Sarà maxi rivoluzione. Poi per la Serie D. Avezzano. I neoi acquisti cambiano le gerarchie. Assisi, Marolda e Serrago. Tortora studia l'assetto. Sul fronte vastese. La vastese salta Chieti. Ci rimette il bomber Prisco. Domenica niente derby. L'attaccante è squalificato. Dovrà saltare il San Marino. L'Aquila. Peluso difficilmente in campo. Ritarda l'ok. Pineto per la salvezza. Serve lo scossone. In trasferta. Con mister Amaolo ci sono più pareggi. E meno gol incassati. E poi progettenta l'impresa nella tana della Fortitudo. Prima trasferta del nuovo anno alle 20.30. Oggi a Bologna. Coach Galli. Non abbiamo nulla da perdere. Sharks. Momento no. Ma Di Paolo Antonio incassa gli elogi di Ramagli. Suo ex capo allenatore a Teramo. Con il coach di Bologna. La militanza al Teramo. Negli anni della Serie A. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti dei notiziari. Alle ore 14, alle ore 19, alle ore 23. Poi vi ricordo questa sera l'appuntamento delle ore 21. Con il nostro settimanale dedicato al mondo della Teramo Calcio. Pro Teramo. Condotto da Jacopo Forcella. Grazie a Gianni D'Areo in regia. E a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.